Ciao ragazze bentornate in un nuovo video spacchettamento Faberlic oggi appunto video per quanto riguarda Faberlic questo era il secondo ordine che avevo fatto della campagna 14 adesso è in vigore quella 15 vi ricordo che giù nell'info box trovate tutti i link inerenti ai miei social come Faberlic per quanto riguarda la pagina di Faberlic che è fortuna Faberlic e poi troverete tutti i link inerenti per iscrivervi a Faberlic e il link per quanto riguarda Instagram andiamo a spacchettare ok allora vado a svuotare e poi vi mostro tutti i prodotti se riesco allora in questo ordine vedrete sia prodotti che ho preso per me che prodotti che mi hanno ordinato le clienti inizio a farvi vedere le cose che ho preso per me allora ho preso di nuovo il detersivo questo qua in polvere all'ossigeno attivo che l'ho già utilizzato già l'ho ripreso due volte e infatti l'ho anche terminato per cui l'ho voluto riprendere e poi ho voluto prendere questo qui sempre in polvere che è della linea Granly per provare ne ho sentito parlare veramente bene ed ero molto curiosa di provarlo questo praticamente è adatto per tutte le persone che abbiamo praticamente l'acqua con molto calcare quindi vedremo e poi vi farò sapere poi continuando allora vi faccio vedere prima le cose che ho preso per me e poi quelle delle clienti e quindi ho preso il siero il siero per le doppie punte della linea Expert questo qua ero curiosa di provarlo e vediamo un po' come sarà vi farò sapere comunque in un video a parte praticamente è un balsamo fluido per le doppie punte dei capelli ovviamente e lo proverò e vi farò sapere poi poi ho preso vediamo allora ho preso le fiale quelle per la caduta dei capelli questa volta sempre di questa linea perché mi sto trovando bene con questa linea però per quanto riguarda la ricrescita e ho voluto prendere queste per la caduta per provarle perché comunque adesso siamo in autunno e quindi ovviamente come ogni autunno che si rispetti cadono i capelli per cui li aiutiamo ed è un concentrato contro la caduta dei capelli sono sempre sei in formato in plastica faccio vedere e le proverò a breve e vi farò sapere ovviamente poi poi vediamo i cartoni ho preso una palettina per quanto riguarda gli ombretti di Faberlic il codice è 5622 ed è praticamente con le sfumature del viola eccolo qua con lo specchietto porta il pennellino vediamo com'è praticamente sono ombretti cotti quindi li potete usare sia da bagnato che da asciutto bellissimi questi sono i colori eccoli qua poi ho preso due profumi uno per donna che è questo qui l'ho trovato molto bello molto elegante anche per fare un regalo devo dire e adesso vi lo faccio vedere codice 3031 bella anche molto la scatola è fantastico già lo vedo cioè ragazze veramente bellissimo ormai ormai proviamo ma stupendo 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 poi ovviamente vi farò sapere vi devo fare ancora il video sui profumi gli ultimi che ho acquistato ovviamente vi farò vedere prima vi parlerò prima di quelli e poi piano piano vi parlerò di tutti gli altri poi ho preso quest'altro che è per l'uomo ed è Asterion codice 3216 e questo ha un pack veramente bellissimo veramente eccolo qua troppo troppo bello andiamolo a sentire buonissimo eccolo qua e poi ho preso allora dei campioncini di profumo per regalare alle clienti poi ho preso con il 70% di sconto che avevo mi sono presa il mascara questo qui nella confezione dorata nero codice 1804 credo che sia questo il codice no non sbagliamo codice 5598 ed è questo bellissimo mascara qui che devo dire ha un packaging veramente lussuoso con questo con queste rifiniture in oro veramente molto bello che poi ve ne parlerò in un altro video eccolo qui e poi grazie al programma start che sono andata avanti per quanto riguarda il programma di Faberlic ho preso questa crema per la cura della pelle che è un contorno occhi codice 0160 ed è questo qui ed è fatto così ed è chiuso e ve ne parlerò in un video a parte questo a breve lo proverò e ora passiamo ai prodotti che mi hanno che mi hanno acquistato le clienti allora ho preso anche qualche busta per dare i prodotti alle clienti allora una cliente mi ha ordinato un paio di gambaletti le avevo presi anche io sono veramente ottimi hanno una resistenza impeccabile veramente sono da 20 den e sono veramente bellissime tra l'altro sul sito ci sono tantissimi modelli anche di calze per tutti i gusti praticamente e quindi questo questo paia poi la stessa cliente mi ha ordinato questo shampoo della linea farmaceutica ed è praticamente lo shampoo attivatore della densità per i capelli eccolo qua invece un'altra cliente mi ha ordinato anche lei lo shampoo sempre come quello che vi ho fatto vedere e mi ha ordinato anche tre deodoranti tre deodoranti praticamente sono questi qua una l'aloe una l'aloe un altro questo è tenerezza di cotone e quest'altro è di purezza del loto e questi sono gli ordini delle mie clienti in ultimo ho preso ovviamente i cataloghi della campagna attuale che è la campagna quindici vi faccio vedere eccoli qua ne ho presi tre per darle alle clienti eccoli qua io vi consiglio di scrivervi a Faberlic in questa campagna ragazze c'è un'offerta veramente da non perdere al sesso acquisto che fate sul sul sito da catalogo praticamente il sesto prodotto lo pagherete soltanto a 0,1 centesimo praticamente vi viene proprio gratis quindi vi consiglio di iscrivervi a Faberlic e di usufruire di questa offerta bomba questo è quanto io spero che il mio spacchettamento vi sia piaciuto fatemi sapere con un commentino che cosa ne pensate se avete provato questi prodotti se siete iscritti a Faberlic io vi consiglio tanto di farlo grazie per la visualizzazione lasciatemi un like e vi ricordo che giù nell'infobox trovate come sempre tutti i link che vi possono occorrere noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi un bacio ciao